Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere nel mondo delle copenzose edizione riassunto della settimana con una carregata di tutte quante le notizie che sono state postate su Marcosbox da me e dai miei amici Cominciamo con la prima notizia, cominciamo con il parere del post di Stefano, del consueto riassunto con tutte quante le novità dal mondo di OpenStreetMap in questo mini riassunto troverete tutte quante le novità, tutti quante i post significativi provenienti dal mondo di OpenStreetMap uno in particolare, molto carino, riguarda l'Humanitarian OpenStreetMap Team dove praticamente si sta discutendo quale potrebbe essere il ruolo e la strategia di questo team che come vi ricorderete di certo è stato molto importante per quanto riguarda i recenti calamità naturali che si sono avute nel mondo Parliamo adesso delle distribuzioni che sono state rilasciate questa settimana il team di Mangiaro ha rilasciato la versione 0.8.10 release candidate con XFCE l'edizione principale di questa list poi in settimana è stata aggiunta anche l'edizione con KDE principale novità della versione con XFCE è la presenza del nuovo artwork Menda che è stato ottimizzato per meglio gestire GTK3 e alcune migliorie che sono state fatte principalmente riguardo all'installertus che sono stati corretti alcuni gravi errori per esempio c'era un bug che impediva la criptografia dell'intero disco con lingue diverse da quelle inglese e cose del genere questa nuova ISO è basata su ramo stabile quindi se volete provarla siete caldamente invitati a farla anche per segnalare bug e quant'altro ho realizzato poi in settimana un post su Everything Me Gauncer che cos'è? è il Gauncer che vediamo anche su Firefox OS questo Gauncer è un Gauncer particolare con una ricerca predittiva con una home particolare che si adatta al momento e al luogo della giornata dove siamo perché ho fatto questo post? ho fatto questo post perché nei mesi scorsi vi avevo parlato di questo Gauncer e di come era possibile scaricarlo procurandosi la PK per terze parti adesso finalmente è disponibile anche sullo store italiano quindi potetelo scaricarlo e mantenerlo aggiornato direttamente in automatico con qualsiasi applicazione fateci un pezzellino, è carino anche se poi alla fine io continuo a preferire i launcher di Google Now novità ci sono state anche da parte del mondo Ubuntu lo sviluppatore che manteneva i repository della versione aggiornata di Cinnamon per Ubuntu, per Ubuntu, nella fattispecie Ubuntu 14.04 ha deciso di non mantenere più questo repository con la versione stabile e quindi ha fatto ciò ciò con la manina a tutti quanti quegli utenti che utilizzano questo repository motivi sono tanti comunque se avete provato in passato questo repository sul Ubuntu vi sarete accorti che ci sono comunque alcuni problemini e cose del genere quindi alla fine diciamo così non è una gran perdita se volete comunque una distribuzione basata su Cinnamon installatevi direttamente a Linux Mint anche perché ha molto più senso perché essendo Cinnamon centrica oppure installate anche una versione tipo Intergos con Cinnamon o altre cose che hanno diciamo così un versione appunto fatta ad hoc e non aggiungere ambienti desktop o distribuzioni con altri ambienti desktop perché alla fine non mi piace mai come cosa tornando ai rilasci della settimana è stata rilasciata Intergos 2014 05 26 come rilascio a presaggire il nome 26 5 2014 la data di rilascio particolarità di questa nuova versione di Intergos principalmente la grande novità è il nuovo installer grafico che è stato aggiornato e che adesso consente di installare anche la versione con KDE di Intergos l'altra novità è che il team di Intergos sta lavorando a stretto contatto con Numix Numix ha dato in esclusiva un tema per la versione con GNOME GNOME presente nella versione 3.12.2 mentre vi sto parlando poi ci saranno gli aggiornamenti quindi per la giornata che è appunto un tema particolare chiamato Numix Frost che non è altro che la variante blu di Numix il famoso tema presenti poi le icone le icone di Numix le Numix Square che sono presenti in tutte quante le edizioni quindi se hai installato per esempio la versione con KDE vi ritrovate anche in questo caso questo set di icone che possono piacere o non piacere comunque come vi dicevo comunque l'installer è stato è stato aggiornato e quindi adesso possiamo installare la versione base la versione con Cinnamon la versione con GNOME la versione con KDE la versione con Mater la versione con OpenBox la versione con XFCE naturalmente voi non so se l'avete mai provata questa distribuzione quando la provate avete la live basata su GNOME e li installate quando vi andate a installare indipendentemente dall'ambiente che andate a scegliere vi scaricherà tutti quanti i pacchetti dalle rete quindi se dovete installare mandavi di pazienza e di una buona connessione per poter scaricare tutto quanto il necessario io personalmente ho provato la versione con KDE che attualmente è installata sulla mia Linux machine la trovo sì abbastanza stabile quindi alla fine è carina mi sta abbastanza piacendo fra parentesi a tutte le versioni di Entergos quella con KDE è l'unica che mi riconosce a prima botta l'audio e quindi me lo configura correttamente e quindi non ho il solito problema che mi viene riconosciuto la scheda audio come Pulse Audio e che non mi fa funzionare automaticamente il jack delle cuffie quando lo vado a collegare stranamente ho provato anche la versione con GNOME e compagnia bella però con GNOME non mi viene configurato correttamente con la versione con KDE mi parte tutto quanto senza problemi della versione con KDE ho fatto una piccola prova su strada brevemente durante la fase dell'installazione sarà possibile abilitare AUR sarà possibile installare dei repositori extra per conto cioè dei caratteri extra sarà possibile installare la versione di LibreOffice base possibile installare direttamente il software proprietario in fase di installazione quindi MP3 Flash e quant'altro ve li potete installare in fase di installazione quindi non avete problemi supporto a Bluetooth supporto alla stampa e supporto al firewall a primo avvio la distribuzione è carina perché si presenta con tonalità diciamo così scure scelta discutibile per me è la presenza di Ancelot come avviatore applicazioni che a me personalmente mi sta particolarmente sulle scatole Dolphin è stato personalizzato per esempio l'apertura delle cartelle non è come nel default di KDE che è con un singolo click ma qua dovete fare il doppio click personalizzato rispetto di Dolphin quindi con un solo pannello laterale non il pannello delle informazioni di lato con non c'è il menu compatto dell'inversione e cose del genere ovviamente sono state personalizzate anche i programmi base preinstallato troviamo Chromium come browser web Digicam panorama show photo copiete per chat e non come le altre distribuzioni altri client Q-Transmission non so perché per la gestione dei vari torrent potremmo mettere direttamente K-Torrent Clementine come player audio a posto di Amarok K3B e vabbè è immancabile soprattutto quando le distribuzioni KD eccentriche vuole sì come player audio e K-Mix per la gestione dei mixer e quant'altro manca completamente la suite KD-Pim quindi manca K-Me aggregator cose del genere manca il default che di solito viene installato di Dragon Player manca una cosa strana che manca è che manca il pacchetto non viene installato automaticamente il pacchetto per la gestione del touchpad quindi se volete andare poi a cambiare impostazioni touchpad per esempio per lo scolimento e cose del genere dovete installarlo a parte come vi ho detto in fase di installazione è possibile installare LibreOffice che viene però installato nella versione quella canonica con Writer, Calc e Impress che sono poi i tre programmi che normalmente la gente utilizza però è presente comunque un programma chiamato LibreOffice Installer tramite il quale potremo scaricare i restanti componenti cioè base draw e math se utilizzate se non li installate che cavolo io frio fa come per la gestione grafica dei pacchetti abbiamo Pacman XG che fa il suo sporco lavoro è veloce abbastanza veloce ed è carino come ho detto fateci un pensierino magari se cercate una distribuzione più 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 aggiornata e cose del genere rispetto a Kubuntu comunque Nugatoie che Kubuntu e tutte quante le altre distribuzioni canoniche con KDE preinstallato sono delle ottime distribuzioni perché comunque tutto il merito di KDE a mio avviso va sempre al team di KDE e non tanto agli impacchettatori della lista anche perché per esempio ho trovato alcuni alcuni problemini all'inizio appena ho installato Antercos che mi si era distrutto dopo mi si era incantato dopo alcune cose vabbè ma penso che sia anche dovuta la mia new budget su questo distro ARC based sempre tornando al rilascio della settimana è stata rilasciata Linux Mint OS che non è altro che una distribuzione italiana che è basata su Ubuntu che è nata insieme alla comunità del forum di Linux Mint Italia il vecchio forum di Linux Mint che poi ha cambiato nome per via di alcuni contrasti con la pulite di Linux Mint questa Linux Mint è giunta alla versione seconda edizione secondo rilascio Linux Mint OS 0.2 caratteristiche principali di questa distribuzione è basata su Ubuntu 14.04 Agnome 3.10 con un'aggiunta di programmi e estensioni della shell per cambiare il look poi il resto sono Slime Kishot Plank un programma per la pulizia del sistema un software manager più leggero un conchi manager e altre cose c'è quella per diciamo così rilasciare una distribuzione che ve la installate e non avete pensieri di fare altre operazioni fateci un pensierino magari fateci un giro settimana poi è stato rilasciato Gumbl Boonvr 10 PC e Android come al solito una serie di giochi indie a basso prezzo con un prezzo che decidete voi che sono DRM free e che possono essere serrati su Windows Mac Linux e Android io l'ho comprato come d'abitudine diciamo il gioco carino è Symfony e poi l'altro gioco carino che però viene dato soltanto se diciamo così se pagate più della media di quello che è stato già pagato quando ho fatto l'articolo 4,87 quindi 3 euro o qualche cosa il gatto gioco carino appunto è School of the Shagun che a me non mi piace come come gioco vabbè comunque se se avete qualche dindio da spendere fateci pensieri anche perché potete decidere oltre che dare soldi agli sviluppatori di questi giochi da rimanere anche in beneficenza all'Electronic Foundation Frontier e il CID4P quindi due iniziative benefiche appello della settimana che XFCA quindi XFCA ha bisogno di un server ha bisogno di un server perché l'università di Stoccolma ha deciso di non voler più supportare XFCA e la distribuzione Lunar Linux che erano ostate sui server dell'università di Stoccolma e sono state ostate per diversi anni il problema principale qual è? non è tanto il fatto che si è perso un server per il download dei pacchetti ma quanto mai ma quanto più il problema è che si è perso quella macchina era particolare perché aveva una build bot system cioè venivano appunto venivano utilizzate per la complicazione dei pacchetti e quant'altro quindi se se conoscete qualcuno se avete disponibilità se potete coinvolgere qualche istituzione e volete aiutare il team di XFCA potete commentare su post Nick Scammer non so se il suo nome e il cognome è vero comunque trovate i link su Google Plus e potete dare a dare appunto le vostre generalità per poter aiutare il team di XFCA che purtroppo è un team piccolo quindi pochi sviluppatori ma anche poche risorse e quant'altro undicesima puntata questa settimana del Marcosbox IO perché si pronuncia IO alla sarda che è la rubrica di Stefano contenente tutte quelle notizie che non possono essere postate direttamente su Marcosbox perché non riguardano strettamente il mondo Linux e quant'altro e che appunto si trovano in questo post una serie di link dove potete con una breve descrizione del post dove potete poi voi approfondire il discorso notizie della settimana due su tutte c'è stato un approfondimento sulla storia dei semi a sua agenda aperta non so se vi ricordate i cosiddetti Linux delle letture di cui ne abbiamo parlato nella seconda puntata andatevi poi a leggere sia la seconda che questa nuova poi che cos'è ah una notizia poi questa è interessante per esempio che gli scienziati del dipartimento dell'energia degli stati uniti hanno finalmente capito perché le batterie agli ioni di litio si rovinano col tempo e hanno anche trovato un modo per come risolvere il problema che a noi ci fa sempre piacere visto che siamo sempre a corto di energia su smartphone e quant'altro appunto andatevi a leggere i post e andatevi a approfondire poi i vari argomenti nella giornata di ieri venerdì mentre vi sto parlando ho realizzato un post dove ho elencato quali sono i 33 parlamentari europei che sono stati eletti che si sono impegnati per il software libero e i standard aperti come sapete sono state le elezioni europee c'è stata un'iniziativa chiamata patto per il software libero di cui hanno aderito 162 candidati provenienti da 16 paesi dell'unione europea di questi 161 aspiranti membri del parlamento europeo 33 sono stati eletti e nel post trovate i nomi di questi 33 nostri alfieri del software libero all'interno dell'unione europea 17 vengono dalla francia che la francia è sempre prolifera di diciamo così di persone attenti alla libertà in tutti i sensi anche nell'ambito informatico 7 dalla germania 3 dall'olanda 2 dalla spagna 1 dal portogallo 1 dal belgio e 2 dall'italia quali sono i due italiani sono Sergio Cofferati e Patrizia Toia entrambi eletti nelle file del del partito democratico all'interno del post trovate comunque anche il link per verificare quali sono tutti quanti i parlamentari che avevano dato la loro disponibilità a impegnarsi per il software libero qualora fossero stati eletti ultimi notizie della settimana sono state rilasciate nella giornata di ieri le iso di linux mint 17 nomi in codice quiana versione cinnamon e mate che sono le due main edition manca ancora l'annuncio ufficiale però dovrebbe arrivare in giornata perché crema aveva promesso che entro la fine di maggio avrebbe rilasciato la distribuzione ufficialmente maggio è finito perché oggi è 31 maggio quindi in giornata di sicuro verrà dato l'annuncio magari domani al massimo comunque queste sono le iso definitive perché sono state spostate in stable come di consueto ho realizzato una guida posta installazione guida posta installazione però soltanto per la versione con cinnamon una versione con mate non la tratto perché più o meno i programmi sono quelli quindi alla fine sono le stesse cose nella guida posta installazione linux mint e cinnamon vi do quei 4 5 consigli 5 6 7 consigli per completare l'installazione di linux mint 17 che comunque come ben sapete linux mint ha già molta molta roba al suo interno quindi non c'è tante cose da installare come accade su ubuntu e altre distribuzioni ultima notizia della settimana ecco vi lascio è una notizia riguardante un evento che si terrà martedì 3 giugno 2014 alle ore 9 presso l'agra zenith cubo 13c dell'università della carabbia dove si terrà la presentazione di rubit 3 scorpion una distribuzione made in calabria più che made in italy realizzata dal mio amico Luigi Yannokaro e da suoi amici che di cui vi ho parlato nelle scorse settimane anche negli scorsi anni perché da quando è uscita l'attratto che è una distribuzione leggera basata su openbox basata su ubuntu che consiglia tutti quelli utenti che cercano una distribuzione facile leggera e faccio appunto da mantenere se siete dalle parti di di cosenza fateci un salto e andatela a vedere bene con questo concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo la prossima settimana magari forse ci vediamo prima con un un video infrasettimanale che io prometto sempre però poi non riesco mai a realizzare per problemi di tempo vabbè comunque ci vediamo prossimamente mi raccomando condividete in video perché condivido non è peccato ma soprattutto è ben visto da praticamente quasi tutte le religioni del mondo quindi se siete credenti in qualsiasi religione condividete fatele bene anche voi dopo questa cazzata mi ritiro per mi ritiro per sempre dal mondo dei video youtube di nuovo lunga vita e prosperità a tutti quanti al prossimo appuntamento e ciao ciao grazie a tutti